Cosa succederà nei prossimi cinque anni? Il GAL lo ha stabilito in queste ore. Il gruppo di azione locale del Parco Nazionale d'Abruzzo si è riunito presso la Sala Consiliare del Comune di Alvito per presentare e discutere con i 28 comuni soci i punti fondamentali del prossimo futuro. I nuovi finanziamenti 2014-2020, forum e sportelli di animazione estiva incontri GAL presso i vari consigli comunali del territorio. Alla presenza dei sindaci e dei loro delegati, il presidente Loreto Policella ha illustrato quali sono le novità introdotte da Bruxelles in materia di finanziamenti europei. Ma è stato discusso anche del nuovo piano di sviluppo rurale del Lazio da 800 milioni di euro, utili a dare nuova linfa al territorio anche attraverso le iniziative che il GAL porterà sul campo, grazie al sostegno economico. 12 quelli selezionati e attivi fino al 2023 in tutto il Lazio. Chiari i concetti e gli obiettivi da cui parte la nuova programmazione 2014-2020, conoscenza, innovazione, competitività, filiera agroalimentare, uso efficiente delle risorse energetiche, inclusione sociale, lotta alla povertà, salvaguardia degli ecosistemi. Incamminandosi verso la programmazione 2014-2020, le possibili tematiche per il nuovo piano potranno essere il turismo rurale, i servizi innovativi per le popolazioni rurali, la qualificazione della filiera agroalimentare, progetti di cui il GAL si farà sicuramente promotore, ma è ovvio, su richiesta precisa e puntuale dei comuni o degli enti pubblici interessati.